no no sto provando una sigla c'è cisa saluto mo ti faccio vedere io come si fa mina che piacere di vederti tesoro stampa fuori a rai per il tampone si dammi un bacio no un abbraccio no un bacio e un abbraccio manco bu no la ciasci no no la ti devo prendere nina Mirka nina fate dare un abbraccio nina ti prego un abbraccio soltanto soltanto un bacio un abbraccio nina ahahahah